Allora ho due notizie su Bitcoin, prima notizia partiamo dalla più importante, questa secondo me è veramente una notizia pazzesca Cryptovalute, Trump se eletto presidente non reprimerei Bitcoin Se venisse eletto il nuovo presidente Donald Trump non reprimerebbe l'utilizzo del Bitcoin e le altre criptovalute Quindi attenzione, Bitcoin e l'utilizzo del Bitcoin e delle altre criptovalute attraverso l'autorità normativa Lo ha dichiarato nel corso di un'intervista CNBC, quindi direttamente lui ha detto questa cosa qua Quindi nel caso in cui lui dovesse vincere le elezioni, ma credo che sia abbastanza probabile Visto come stanno andando le cose, non so se state seguendo, però è abbastanza probabile Lui alza le mani e dice non c'è bisogno di normare ancora di più eccetera eccetera Attenzione perché appunto si pensa che vogliono aggiungere normative che andranno sempre a indebolire sempre di più il settore criptovalute Ma lui dice di no, quindi se dovesse vincere per altri 5 anni, mi ricordo quanto è il mondato, 6, 4, 5 anni Dovremmo essere a posto, vedremo, però questa è una gran notizia che avrebbe dovuto fare esplodere Bitcoin Ma comunque non è esploso, ma è andato a fare nuovi massimi, dopo andiamo a vedere L'altra notizia, l'altra notizia, così ci togliamo tutte le notizie L'altra notizia è questa qua Il nostro solito, anzi prima di parlare di Sailor Moon, facciamo vedere Sailor Moon Quindi abbiamo il nostro mitico Sailor Moon Che cosa ha fatto? Ovviamente ha comprato ancora MicroStrategy, lo dice direttamente lui su Twitter Ha comprato altri 12.000 Bitcoin Così 12.000 per 821 milioni di dollari Più o meno al prezzo di 68.004 Così lui ne ha in totale 205.000, che poi è MicroStrategy Quindi MicroStrategy ha 205.000 Bitcoin per quasi 7 miliardi Ha un prezzo medio di 33.700 Attenzione a questo 33.700 che si sta alzando sempre di più Perché lui continua a comprare, quindi il prezzo medio si alza Le ha pagati con una parte in cash E lì va benissimo, finché compri in cash non c'è problema di stop loss Ma purtroppo la parte grossa la paga con dei prestiti, bond e cose varie Insomma E lì invece lo stop ce l'abbiamo Però vi faccio capire una cosa Questo è Bitcoin, ma visto che ho fatto il video Che fra l'altro è esploso Questo video qua che vi ho chiesto mille like Per fare anche l'analisi su Ethereum Ne avete messi 1459 Quindi direi che giovedì esce il video Dell'analisi di Ethereum Molto interessante Quindi attendete giovedì Questo ecco Il grafico che ha usato per il video Se lui continua a comprare anche dopo l'Alvin Quindi praticamente dopo andremo a aggiornare il giorno in cui parte l'Alvin Che deve essere dal 16 al 19 aprile Ma se va a fare quello che abbiamo provisto noi Mettiamo anche che vada ancora più su A 160.000 E lui continua a comprare Ovviamente il suo prezzo si alzerà Se poi va a fare il meno 30% Che abbiamo letto È un po' così Si va diciamo Va a mettersi in una zona di rischio Ok? È sempre un livello alto Perché anche se fa meno 30% Anche se fa esattamente quello che È stato calcolato nel video Scenderebbe a 48.000 Lui per adesso è a 33.000 Quindi non rischia niente Ma Lui dovrebbe smettere di comprare Cioè ragazzi mandateli una lettera di te MicroStatici Smettela di comprare Aspetta almeno Prossimo fra Fra 2-3 anni Che torna a scendere del 70% Magari tu puoi dopo Puoi tornare a fare questo giochino Ma da Insomma Dall'alving in poi Non ha più Se lui continua a comprare Soprattutto così Massicciamente 800 milioni Va a continuare Ad alzare Ok? Quindi O continua a comprare Con soldi cash e basta Se invece continua a comprare A leva Con dei prestiti Ragazzi È un pazzo È un pazzo È un pazzo Quindi È già in super guadagno Non c'è bisogno Allora Torniamo su Torniamo su Bitcoin Andiamo a vedere il daily Cosa sta facendo Quindi Quella notizia Soprattutto quella di Trump È molto interessante Poi qua vedrete Un più 21% Secondo me Questo DXRP È molto legato Quella sta notizia qua Perché non rompere più Le scatole Con le norme Nel mondo cripto Sapete che XRP è quello che ha Più problemi di tutti Quindi adesso Non a caso Fa più 21% Ma dopo andiamo a analizzare Ma Bitcoin Anche lì ne approfitta Va a fare nuovi Massimi storici Anche oggi Dopo che ha testato La 10 Ci ha avvicinato tanto Guardiamo la time frame Un'ora Vedete Ha rotto la 5 Questo è la 5 daily E si è andato a avvicinare Al 10 daily Ma poi è tornato Di nuovo sui massimi E niente Siamo in Viagra Ema 5 Quindi continua ad andare Quindi attenzione Che siamo sempre in Viagra Siamo sempre nel daily Super estesi Insomma Sarebbe meglio Che prima dell'alving Andasse un attimino A riposare Il top sarebbe stato Fare E fare Eccolo qua La tazza Col manico Invece ha fatto il manico E poi la tazza E vabbè Era meglio fare anche un manichetto Prima Andare a testare Un posto di 60.000 Prima Dell'alving Ma invece sta continuando Andare dritto per dritto Ma Zero Fomo Si entra solo su conformazione Ok Oggi comunque C'era la conformazione C'era questo terzo tocco Molto bello Perché era un bad Un maxi bad Fintato Guardate Maxi bad Fintato Cosa succede Quando il maxi bad Fintato Diventa un terzo tocco E diventa potentissimo Fra l'altro Ho visto finalmente Che state iniziando A pubblicare Dei trade Così In chat Bravi ragazzi Mi raccomando Bravi bravi Quindi comunque La conformazione C'è stato Anche qua sotto Abbiamo un bad Fintato Vedete la x Fintato E poi dopo è andato Todo moon Ha fatto la prima rampa Poi la seconda rampa Quindi la conformazione C'è sempre Noi aspettiamo Questo è il daily Che cavolo sto dicendo Questo era il daily Oh Qua Cosa sto dicendo Una cavolata Eccolo qua Invece questo era Time frame un'ora Quindi poi abbiamo avuto Un terzo tocco Anche qua Quindi un tocco Time frame un'ora Un secondo tocco Il terzo tocco È andato Ok Sempre comunque aspettare La conformazione In realtà qua c'era Un trigger Che era il cambio colore Come di prima Era il daily Niente Bellissimo Tra l'altro Vabbè Quindi comunque Capite che ogni volta Dovete sempre aspettare Una conformazione E amen Andiamo a vedere Prima di andare a vedere Ripple Che sta esplodendo Andiamo a vedere Ethereum Che non si ferma A maggior ragione Poi col video di giovedì Vi faccio capire Un po' di cose Perché ovviamente Ethereum Ovviamente non fa L'alving Ma Va un po' Ad amplificare Quello che sono I movimenti Di bitcoin Ma è interessante Perché spesso In ritardo Non è la prima volta Anche adesso Noi siamo in ritardo Perché bitcoin Non è in all time Mai ancora E in più Sta ancora aspettando Quello che potrebbe essere L'alving Quello che potrebbe essere Lo spot Etf Che dovrebbero dirlo Intorno Metà fine maggio Potrebbero decidere Di effettivamente Fare questo Etf Spot Anche su Ethereum Quindi molto interessante Perché Ethereum Invece non è ancora In all time Quindi è indietro E anche altre volte Vedrete È rimasto indietro Ma poi è recuperato In abbondanza Tendenzialmente Prima esplode bitcoin Poi Ethereum E poi dopo gli altri Fino a finire Alle mega trash coin Che è proprio L'ultime arrivate Quando esplodono Anche quello lì Capite anche voi Che è il momento Di vendere Quindi va un po' A rotazione Per adesso Stiamo vedendo Che il primo Fra i grandi Perché fra i piccoli Chi è nato in all time Mai Li abbiamo già visti Già da un po' Va bene Andiamo a vedere Però Quindi questo è Ethereum Che è nato A rompere Comunque era Un bad daily Ma bruttissimo Perché comunque Siamo in Viagra Anche qua È troppo esteso Veramente troppo esteso Ci vorrebbe un altro Flash crash Qua è andato solo A testare la 10 Poi è andato A fare noi Ma sì Ma ci vorrebbe Un bel flash crash Per andare a testare La 5 settimanale Allora sì Allora sì Allora sì Quindi qua Per le pesche notturne Non sarebbe male La 5 La 5 settimanale BNB Anche qua Tutomuno Ragazzi Incredibile BNB Quindi che si allontana Dalle zone Pericolose Pericolose E addirittura Qua quanto Ma non manca Neanche tanto Neanche a lui Andare a fare Addirittura Le all time 28% Perché qua Paga poco Però insomma Non manca tanto E qua avete visto Anche qua Un terzo tocco Che è andato Veramente To the moon Quindi zero conformazione Andiamo a vedere Ripple Ripple Che esplode oggi Ma attenzione Perché abbiamo Abbiamo comunque Un livello interessante Non ancora Retto Rotto Un livello interessante Nonostante Il più 20 Di adesso E nel mensile È molto carino Ok Siamo Questo è Fra i grandi Uno dei più distanti Dagli old time Stiamo parlando Di 168% Quindi questo è Molto indietro Ok Quindi interessante Ripple Da tenere Ovviamente adesso Da tenere d'occhio Adesso sta andando Time frame un'ora Vedete dritto per dritto Quindi No good Ma da tenere d'occhio Perché appunto Abbiamo dello spazio E abbiamo un livello Sia settimanale Che mensile Molto interessante Questo 75 Questo 75 Toccato perfettamente È molto interessante Cosa mi è suonato Ah Idex Andiamolo a vedere Idex A proposito Idex Non sbaglio È uno che Anna l'ho visto Ho visto Eccolo qua L'ho visto Nel Un segnale Bullbot daily Stamattina Molto interessante Perché È in realtà Un terzo tocco Un tocco Secondo tocco Terzo tocco Ma Non sono distanti I massimi storici Non sono distanti Assolutamente Anche nel settimanale Andiamo a fare Chiusura più alta Di sempre Del corpo E nel daily Anche pure Manca poco Manca poco Manca poco Vediamo time frame Un'ora Se abbiamo Una conformazione Beh volendo Dai Ho già fatto Diversi tocchi Qua andiamo a testare La 10 È interessante Da tenere d'occhio Comunque Un livello Molto preciso Vediamo Poi Poi Ah andiamo a fare subito La lista Di mille Andiamo a vedere Anzi Vediamo un attimino Ada e poi Sol Allora Daily Di Ada È un doppio Doppio Triplo livello Bad Che poi ha rotto Ma è il livello Più interessante Qua sopra Andiamo a vedere Mensile Di questo qua È già andato Sol invece Ovviamente con mensile Manca ancora tanto Agli all time Ma il sol Però questo è veramente 69% È un bel Dritto per dritto Ma insomma Qua ha riposato Qua ha fatto la tazza Col manico Quello che È sempre stato meglio Facesse un po' Bitcoin Nel mensile Vedete qua Il fresh clash È andato Direttamente Sulla 10 Settimanale Beh dai Qua sta nel daily In realtà sta anche Un po' riposando Ma ci vorrebbe Ecco ci vorrebbe Che un bel Terzo tocco Quindi uno Magari il secondo Va a riposare Oppure la finta E dopo va a fare il terzo Però è molto dritto Per dritto Ci abbiamo di meglio Andiamo a vedere I fan token Perché ultimamente Eh non i fan token Insomma Pepe, Dodge Come si chiamano pure Vabbè Se non mi viene in mente Comunque Dodge, Shiba Pepe, Flochi Meme Ecco Meme coin Cosa stanno facendo Perché dopo il super To the moon Questa cos'è? Questa è Dodge Dodge 126% Ah vediamo Però qua manca Manca Qua manca tanto Agli all time Che spero che non ci arrivi Se anche Dodge Agli all time Veramente ragazzi C'è Dodge proprio no C'è quel ragazzo C'è un ragazzo Che è diventato Un milionario Americano Comprandoli Un po' a caso Così Che non ha venduto Nello scorso Burran Li ha tenuti E adesso Ha detto che Li mette Li mette in vendita A uno E andrebbe A 5 milioni Di dollari Boh Io spero che Insomma Sarebbe un bruttissimo Insegnamento Questo Vedremo Comunque Shiba invece Shiba anche qua To the moon Questa è una candela Pesantissima 161% Questo è il mese Solo questo mese qua Il daily Sta un po' Riposando Andate a stare La diecima Rimane lì Pepe Veramente È andato fuori Pepe Guardate quando ha rotto Quando ha rotto I massimi Questo è il mensile Quindi ha fatto un terzo tocco Dai massimi storici C'è solo dai massimi storici Ha fatto Il 171% Veramente Esploso Esploso E adesso Qua io Te rendo occhio Per lo short Perché insomma È veramente Esteso E comanda la 5 Nel daily L'ultimo è Flochi Anche questo Potentissimo Solo dal livello All time high Ha fatto Anche qua Un 340% Cavolo Più di Più di pepe Più di pepe E nel daily Eh sì E nel daily Qua anche qua Iniziamo a cercare un po' Un po' Di short Vediamo Time frame un'ora Abbiamo Avremo un terzo tocco dei massimi Finsate Oggi è andato a fare Un secondo tocco dei massimi Quindi abbiamo un livello Molto trigger Sui nuovi massimi addirittura Niente La 10 L'ha già rotta Adesso vediamo La 60 Prima ha tenuto benissimo L'elema 60 Vediamo La seconda volta Perché poi C'è spazio Questo se non sbaglio Paga Dopo c'è spazio Fino alla 5 Daily Eh sì Paga un sacco Quindi da tenere d'occhio Va bene Dai andiamo a vedere Andiamo a vedere Un attimo I 1000 Dai andiamo a vedere Andiamo a vedere I 1000 Allora 1000% Allora Partiamo Da l'una Che ho fatto Il 60 Io ho holdato Penso È la prima volta In vita mia Che faccio Un ingresso Mensile Dove aver visto Un grafico mensile Quindi ho fatto Un ingresso Mensile Di due ore 60% Ci ho creduto poco Infatti sono entrato Solo con Quello che mi era rimasto Un po' su Binance Quindi ingresso A 1000 dollari E ho fatto Il 60% Vabbè E Luna 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 Eccolo qua Mensile Comunque abbiamo fatto Abbiamo fatto La rottura Da 10 È andato a triggerare Il livello precedente E ancora Tenere assolutamente D'occhio Però io non ce la faccio Allora Vi ricordo che questo Si chiama Lista del 1000% Ragazzi ho visto prima Ma addirittura siamo Sopra i 300 Ragazzi Lo chiamo Lista 1000% Perché c'è spazio Fino agli old time I del 1000% In questo caso 700 Ma insomma Più o meno Siamo lì Ma non vuol dire Che entri E poi holdi Fino ai nuovi Old time I Io Non ce la farò mai Infatti Vi ho fatto vedere Proprio Settimana scorsa Ingresso Due ore Sono uscito Cioè questo serve Per capire Trovare quelle cose Che possono fare Delle grosse accelerazioni Ok Poi prima Incassiamo Meglio è Poi magari passiamo A qualcos'altro Però comunque Come vedremo Se c'è qualcuno Che riesce poi Addirittura a tenere Fino Però Capite anche voi Che più va su Più sono basse Le probabilità Che possa poi Raggiungere No Veramente Gli old time I Comunque Comunque Andiamo a vederli tutti Allora Quelli in verde Sono quelli che avevano Ancora la conformazione Quindi andiamo a vedere Chi ha già saltato La conformazione Toglieremo il verde Cambiamo colore Questi sono quelli Che non avevano La conformazione Ok Phil Infatti Non ci aveva La conformazione Andiamo a vedere Il daily Qua si pensava Di fare Un terzo tocco Ma invece è andato su Quindi niente Quindi Phil rimane ancora Sulle sue Senza conformazione Anche qua Abbiamo già fatto La rottura Quindi siamo a ritardo Gala Mamma mia Cosa ha fatto Gala Che cosa Ha fatto Gala Send Qua non c'è Send Però Ah si Send è qua Si Send è qua Se ecco Send è rimasto un po' più indietro Però ha già rotto il livello Ok È rimasto indietro Vedete Rispetto a Gala Gala Ha una candela Già un po' più grande Però questi sono da seguire Perché veramente Possono fare tanta strada Qua Nel mensile Era già andato Sono tutti dei bad Sopra la 10 Ecco NJ invece Ah no L'aveva già fatto Anche qua L'avevamo tenuto Perché per vedere Se faceva il terzo tocco Invece non si è fermato È suscio uguale Quindi nessuno di questi Si è fermato E tornato indietro Per poter permetterci Fare un ingresso Luna invece Avevamo fatto l'ingresso E ha fatto la sua sparata Lo teniamo Ma cambiamo il colore Lo mettiamo in rosa LRC LRC Qua Dai abbiamo Abbiamo un doppio livello Qua l'ha già rotto Allora abbiamo questo livello qua Il prossimo livello è questo Andiamo a vedere Nel daily Ah Troppo Troppo dritto per dritto Troppo dritto per dritto Lo teniamo lì però Lo teniamo lì GMT Oh GMT Invece Possiamo andare a spostare Su livello Ah GMT poi è andato Si è andato poi a target Quello che era la 60 Nel settimanale Però sta facendo resistenza Quindi ottimo Allora possiamo andare a Tenerlo E spostare Il nuovo trigger Questo è il trigger Diciamo un po' più importante Ma abbiamo già Un altro trigger Che è Il livello qua Della 60 Che oggi è andato a riposare Molto bene Tra l'altro sta recuperando Sta tornando su Quindi Quindi attenzione Sta tornando su E nel Nel mensile Quindi finalmente Dovrebbe riuscire a fare Questa chiusura mensile Sopra la 10 Dopo Mai Praticamente Sempre È sempre stato sotto E vediamo Questo lo possiamo Ancora tenere KSM invece Nel mensile Il livello Ancora più in alto Quindi non ci siamo Ancora arrivati XNC Anche qua Il livello Di rottura Ancora più in alto Nel daily Cosa sta facendo Ah perché il livello È questo qua Dello spike Ottimo Perché adesso Vabbè Qua avevamo già Un ingresso Ma La 223 Dovrebbe fare Da resistenza Che sarebbe ottimo Così magari Da fare il terzo tocco Ok perché questo Già il livello Magari la 223 Fa da resistenza E così ci permette Un terzo tocco Anche questo Quindi lo possiamo Tenere Questo lo possiamo Tenere Vediamo Ape Questo è il mensile Ape Va dritto per dritto A rompere la 10 Qua avevamo il livello Andiamo a vedere Nel daily Sì dai Questo lo possiamo Tenere Con daily Stiamo andando Verso un terzo tocco O tre cime Questo è più basso Quindi potrebbe fare Una terza cima O comunque Il terzo tocco Sui massimi Dai questo ce l'abbiamo Possiamo tenere Ygg invece è volato Guardate che roba Ygg Questo era il livello Che abbiamo indicato È volato Quindi questo Lo mettiamo In fucsia Questo è volato Va bene Allora Andiamo a cercare Qualcos'altro Ci siamo quasi Per il meeting Poi il derby in treno Ah non vedo l'ora Io sono già carichissimo Per il meeting 5, 6, 7 aprile Top di gamma Non vedo l'ora Allora Mbox Ok dai Cerchiamo prima I 1000% Ok Poi dopo andiamo a fare Le analisi Quello normale Vediamo cosa c'è Allora Mbox Non azioni MJ box No Ok Mensile Ah no Questo è Questo lo guardiamo Dopo Beh niente Non c'è niente Neanche a guardare dopo Che è un dritto Per dritto Senza niente Allora guardiamo I 1000 Alice Ok Alice Ah giusto Poi io ho una lista Con delle cose Ah giusto Avevo una lista Che ho guardato Visto che pioveva Questo weekend Fra cui c'era anche Alice Giusto 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 Mi ero dimenticato Versa questa lista qua Quindi Alice Alice Assolutamente Ah però Abbiamo già Superato Il livello Allora Cancelliamo Tutto Questo era Il livello L'abbiamo già superato Vediamo nel daily Sì Sì Beh questo può essere buono Per Per delle pescate Per delle pescate Intorno all'EMA 60 Teniamolo Dai Aggiungiamolo Alice Vediamo se fa una conformazione Non alce Ma Alice Alice Dai lo possiamo aggiungere Ah aspetta Anche perché nel mensile Qua ce l'abbiamo No di spazio 1200 Ok qua ci siamo Poi Ah coin per pescate Sì 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 Esatto Eh ma già queste Vedete Adesso infatti Mi sto ricordando Che vi dico anche I livelli Da dove Da andare a mettere Le alert Per pescate In caso di Crolli Dove può andare Ok Quindi Alice Quello di prima Alice C'è questo qua Assolutamente Qua sotto Quindi per Vedete che mi hanno suonato in casa Vabbè Comunque qua Assolutamente Se con un flash crash o qualcosa Mi va a prendere Le EMA 60 O le EMA 10 Le EMA 5 Queste sono zone di pescate Cose da follie Va bene Andiamo a vedere Aspetta S.L.P. Eccolo qua S.L.P. No ma è già andato Questa mensile È già andata Non è proprio Un terzo tocco Fa veramente schifo Come terzo tocco Però possiamo Seguirlo Una marea Di per cento A Settecento Dai Direi che è buono È già andato Anche qua Il solito discorso Della 10 Piacerebbe trovare qualcosa Che deve ancora rompere la 10 Però nel daily Da tenere Dai Non lo aggiungo Dai non lo aggiungo Però vediamo Ah Bull Si sente malissimo Ragazzi Mi sentite male Microfono Sente male Audio Mi sentite Provo ad abbassare Gracchia Ok ho abbassato un attimo Adesso dovrebbe grattare Gracchiare meno Gracchiare meno È il cavo dell'ultima volta Vabbè Dai Andiamo avanti Allora Kp P3R K K Kp Kp Mettiamo quelli Solo su Bybit Uguale Sentite malissimo Deve essere il cavo Hai pop con il microfono Ma ancora sta facendo sta cosa BNX E che non riesco a cambiare A camere a camere Ah bene ora Ok 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 Va bene va bene Allora poi cos'è Ah un altro che ho visto molto interessante Questo qua Fanfare Questo Eccolo qua No Fan Sarà fan Vediamo se è questo No non era questo Che cavolo ho visto Fanfare Non me lo sta facendo vedere Vabbè Vabbè Ah FXS FXS Allora Vediamo FXS Ah no Non ci siamo Con le percentuali Questo è il mensile Però ormai che ci siamo Guardiamo Abbiamo un livello daily Questo fa veramente Schifo però Perché ogni candela Ecco questo Fa veramente Guardate che schifo Di grafico Ogni candela Non rispetta le ema Va veramente a caso Questo è un ottimo Ottimo simbolo Per ricordarsi Quanto fa schifo Quanto possa far schifo Mana 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 Oh questo Ma è rimasto indietro Vediamo come percentuale 600 Un po' indietro Un po' pochino Nel daily Però non c'abbiamo niente Fa anche abbastanza schifo Come grafico Ah settimanale Però abbiamo un terzo tocco Questo già Un po' più interessante Settimanale Un terzo tocco Da tenere d'occhio No poi No aspetta Perché poi Sarebbe anche No dai mettiamolo Dai paga Non è dei mille Non è un mille per cento Un 600 qualcosa Ma mettiamolo Perché potremmo avere Una conformazione Quindi lo mettiamo Mana Qua potremmo avere Settimanale Un terzo tocco Ci deve ancora arrivare Quindi vediamo Questo lo possiamo tenere CLV L'ultima CLV E poi dopo guardiamo insieme Niente Non ce l'ho Boh O li ho scritti male Va bene Va bene Va bene Allora Se ne mi avete visto Ah dai un'occhiata C98 Giusto C98 Il mitico Il mitico C98 Oh bello questo Io mi ricordo Io mi ricordo Il giorno in cui C'è stato l'IPO L'ICO Che avevamo un meeting Se non sbaglio Oh qua 900% Ok Questo c'è Questo c'è Questo è il mensile Però Siamo già In accelerazione Vediamo Il settimanale Daily Daily fa veramente schifo Daily proprio fa schifo Zona di pesca Comunque Questa zona qua Quindi stiamo parlando Della EMA 10 Della 10 Settimanale Eventualmente Però no Non ci abbiamo niente Zero conformazione Zero conformazione Lo voglio aggiungere però Per adesso Non c'è nessuna conformazione Quindi la lascio lì così Però non si sa mai Che poi si crea qualcosa Lasciamo qua così Allora Ah GLMR Assolutamente L'ho visto prima In classifica E segnalato Anche double bot Questo non ho visto Come percentuali Siamo in ritardo Anche qua 700 Dai va bene Purtroppo Il livello È già stato superato Vediamo Il daily Infatti oggi Abbiamo la mega Accelerazione Il settimanale Eh sì Avevamo il livello Settimanale Anche questo È già andato Questo è andato Ma lo teniamo Anche questo Che vediamo Se dopo più avanti Fa una conformazione Ok GLMR Così noi facciamo Così noi facciamo la rotazione Ok Non so se Riuscite a capire Cosa stiamo facendo Allora stiamo cercando Ricapitolo Quindi stiamo cercando Quelli che sono rimasti Molto indietro Che possono fare Rimbalzi Importanti Che hanno bisogno In poco tempo Ok Che è un po' Quello che Quindi Sono dei livelli Estremamente trigger Va bene Dai Ah quindi La puntata Sta facendo schifo Praticamente Non sta funzionando L'audio Ditemi se devo Riesettare tutto Però ormai Ormai Dai Gracchia potente Porca Allora provo un attimo A staccare Stacco un attimino No va bene Si sente Ok 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 Va bene Ma non perfetto Va bene Dai prossima volta Faccio un check Faccio un check migliore Allora Dai Giusto per finire La puntata Dai Perché poi sto registrando ICP ICP Poi andiamo a vedere Bullbottom Ah mi sono dimenticato Di mettere gli occhiali Mi sono dimenticato Di mettere gli occhiali ICP Uguale Però siamo già Vediamo nel daily Ah beh Daily ha fintato Un livello In realtà Il daily Il daily Interessante Insile Come siamo messi 300% No no good Però No good Per la lista 1000% Adesso lo togliamo Però Sì qua Daily non è male Cioè già È bruttissimo Come spike Ecco Questo è un altro Di quelli Dove magari Conviene cercare Di prenderlo In basso Con degli spike Sulla 10 Settimanale Cos'è lady Lady sta andando Ah lady ha fatto Gli all time Lady Lady per la festa Della donna Eh sì La festa Della donna È già Andato Ha fatto Finte Non Infinite Vediamo Time frame Un'ora Va bene Dai Allora cerchiamo Bullbot Bullbot Oh CRV CRV Questo è il nuovo CRV Andiamo a vedere Quindi qualcosa Che ha Un daily Interessante Sì Da domani Decisamente Poi oggi Ha fatto già Il test E la 10 Ha Fintato Di poco L'ha Fintato Il bot Dice di sì Però Mi sembra di no Vabbè Comunque Questo da domani Non oggi Da domani Diventa un terzo tocco Molto interessante Proprio sulla 60 Settimanale Quindi Interessante Interessante Ancora meglio Se Questa settimana qua Non lo rompe Ma sarà difficile Ok Questo è interessante Vediamo SNX Anche qua Stiamo avvicinando Il livello Questo è fresco SNX Andiamo a vedere SNX SNX Cioè Ultimamente Ragazzi Ma cos'è sta roba qua Tutti sti spike Bruttissimi a caso Veramente Vomitevole Questo proprio Mi rifiuto Di guardarlo Allora Andiamo a vedere Daily the moon C'è qualcosa di nuovo Sì Adjust Non l'avevamo già visto prima Questo GNS GNS Questo sembra un terzo tocco Andiamo a vedere GNS Come spot Ah ok Ce l'abbiamo su spot Perché è solo su Binance Però su Bybit Ce l'abbiamo Ma in spot No Brutto Cioè è brutto Nel senso che Questo è troppo spike No dai C'è di meglio C'è di meglio Ah beh Guardiamo questo JST Just No brutto anche questo Niente Bull Bico Ok andiamo a vedere Bico Uh Bico Eh sì Questo è un mille Questo è un mille Questo lo Andiamo ad aggiungere Questo lo aggiungiamo Bico Bico Ok Vediamo il daily Però perché è già andato È già andato Vediamo Teniamolo Teniamo d'occhio Settimanale Vediamo se è qualche altro livello Questi sono già andati Il prossimo livello È qua su Questo spike qua Il prossimo livello È quello Ma Facciamo in tempo Facciamo in tempo Non c'è fretta Mi raccomando ragazzi Zero fretta Per adesso Non abbiamo la conformazione Vedremo se poi lo troviamo Algo Daily stupendo Oh vediamo Algo Vabbè ha rotto il bad Anche qua Troppi spike in basso Qua con il flash crash Che sta facendo ultimamente Sta andando a sporcare Cioè sono meglio Per fare le pescate Porca miseria Bisogna andare sul lema 5 Settimanale O 10 Insomma il primo che c'è Per andare a fare le pescate Sì qua abbiamo la rottura di un bad Vediamo Time frame un'ora Ah time frame un'ora Avremo il terzo tocco Dai vediamo se troviamo qualcosa di meglio Cielo Time frame un'ora Vediamo Ah cielo esploso Vediamo il daily Come mai ha fatto questo Ah ok Ah questo era bello Oh questo era bello Questo era un bel livello Giustamente esploso Eh sì Insile Spazio e volontà Ok Questo era un bel daily Però è già andato Quindi niente Time frame un'ora Niente Si è toccato la 5 Però Magari da aspettare la 10 Però questo rimbalza E' meglio quando ci va dritto per dritto Sulla 10 per il rimbalzo Va bene E Cos Cos Sarà su Binance Dai andiamo avanti Alfa mensile Alfa Mensile Sì Sta tornando su Ok Settimanale Il daily Però anche qua Ecco anche questo Questo è uno per le pescate Questo è un altro per le pescate 5 settimanale Mensile Non è male Daily Daily purtroppo Non abbiamo niente Guardate qua Daily Non abbiamo nulla Tommy Questo è un daily Qua abbiamo un livello già più interessante Questo è bello Ve lo voglio spiegare perché è bello Allora Sta lottando Sta lottando Fra la 5 Settimanale Xcn Xcn Poi andiamo a vedere Non so perché ho questo alert Poi andiamo a vedere Allora C'è la 5 settimanale Che è in comando Ok Che lo spike Poi è andato a romper Ma è in comando E poi abbiamo la 10 settimanale Che li sta tenendo un po' giù Ok Quindi Attenzione Perché già Chiusura sopra Insomma Poi abbiamo questo livello Bad Su in alto Che potrebbe essere trigger Ovviamente con un time frame A un'ora Dove prima ci crea Una conformazione Un terzo tocco Qualcosa Per poter fare l'ingresso Questo potrebbe essere Interessante Poi Ah Vediamo l'alert Cos'era l'alert Che non me lo ricordo più Vabbè Non me lo ricordo più E Cui Cui Bello su tutti i time frame Vediamo Ah Xcn Giusto Xcn Vediamo che alert Avevo su questo Questo è il daily Ah Sta andando verso Un secondo tocco Settimanale Uh Bello questo Guardate che Viagra Che ha avuto Poi esploso Adesso ci stai pensando Quindi Il mensile Ragazzi Ma che cos'è questo qua Xcn Alla grande Ma questo Questo è un È un 20.000% Cos'è questo Un 6.000% Questo cos'ha Rischiato il fallimento Sicuro Eh Questo Questo lo mettiamo Xcn Xcn Ok Xcn E attenzione Che Niente male Niente male Allora Qua anche qua Stessa cosa Quindi abbiamo Il livello Deve andarlo A Adesso È andato a testare Quindi riposare un attimo E poi dopo abbiamo La rottura Questo è il settimanale E c'è tantissimo Spazio Anche solo Per andare Alla 60 Settimanale Molto interessante Questa Molto interessante Sì E qua Ci mettiamo Il verde Ci mettiamo Anche il verde Perché La conformazione C'è Sarebbe meglio Però che appunto Non adesso Cioè domani Non andasse su Dritto per dritto Deve riposare un attimo E poi fare Questa rottura Questo diventa Ha un ingresso Interessante Shimano Nel daily Ah sì È vero Lo shimano Gigantesco Mamma mia Lo shimano Larghissimo Però Tecnicamente Sì È salito Da quando L'hai nominato Tutta la family È entrata Infatti Ah burger Dai Andiamo a vedere Sto hamburger Burger Perché 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 Burger Mi sa che Non c'è Su Bybit Ah ok Su BNL Su BNB Dai Viste che Ci sono tante le cose Cerchiamo questi qua Allora Confermo Bad mensile Uscita 223 Agra Ah ora Vediamo Un attimo Un attimo Mini Fomo C'è qualcosa Di nuovo Sì CRV Non l'abbiamo già visto CRV Sì l'abbiamo visto Prima Questo è quello Del domani Terzo tocco L'abbiamo già visto A ZZRX Direi che è straesploso Togliamo ste linee Questo è un bellissimo livello Questo è già esploso Ah Ho capito Qua vuole andare In all time I Però Non dritto per dritto Quindi A tempo per pensarci Oggi sta tornando indietro Certo Teniamolo d'occhio Ecco Anche qua Pescata Qua potrebbe Aver voglia Di andare a pescare Quindi con un flash crash Qualcosa Andare sulla 5 settimanale Ok Potrebbe andarlo a fare Sarebbe anche interessante Quindi questo è un altro Per flash crash Allora YUP Qua ha già fatto Gli all time I Questo è il daily Che sta riposando Eh già andato Però Già andato Sta riposando Niente di Particolarmente Carino Vediamo Qua c'è bisogno di tempo Dove è H Oh H Terzo tentativo Di rompere la 60 E anche questo È Veramente Anche questo Potrebbe essere Uh Qua abbiamo Un livello Questo è un 1.3 Bravo 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 Chi me l'ha segnalato Chi è che me l'ha segnalato Questo qua H Ah Grande Claudio Claudio scalp Grande complimenti per il tuo nome Questo mettiamo anche il verde Ragazzi perché questo è Alla conformazione Ok è un secondo tocco Non ha ancora rotto per fortuna Quindi ci lascia Possibilità Vedete È andato a fare Nel daily Stiamo andando a fare Il terzo tocco Questo è molto carino Oh E questo me lo posso segnalare Segnare H H carino Sì carino 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 Però il daily è bello Ragazzi Quindi qua bisogna Avere uno stop Abbastanza decente Perché qua Vabbè Comunque Il livello mensile È decisamente Interessante E non ancora Inviolato Il top sarebbe ovviamente Il prossimo mese Quindi mettete un'alarme Per aprile Però tutte le settimane Andremo a rivederli questi Quindi questo lo teniamo d'occhio Questo lo teniamo d'occhio Algo Algo E anche qua Ecco 0,3 3 Quindi questo è un mille È un mille per cento Purtroppo è già andato Questo era un bel bad Bello pulito Il settimanale Ha fatto la rottura Della 60 Questo è già andato Questo è già andato È un altro Con cui si può provare A pescare qua Sulla 60 Casa di un crollo Qualcosa Sarebbe da tenere Anche questo Deve dire Se fa qualche conformazione Però abbiamo già Tanta roba Dai vediamo Allora Fitfi Fitfi Fit Fitfi Fitfi Madonna Anche questo Cos'è Un 10 miliardi di per cento Un 3 mila per cento Ma c'è un sacco di roba ancora Anche qua Il livello Era questo qua Ah qua abbiamo avuto Il livello Di rottura della 5 Questo era il livello Di rottura della 10 Però Magari va a ritracciare Sì ecco Questo ha bisogno Di andare a ritracciare Dove? Qua giù La 10 Settimanale Anche qua Per una pescata Eventualmente Ha rotto il secondo tocco Magari una bella pescata Qua Torna la 10 A 0,1 Una bella pescata A 0,1 Potrebbe anche Arrivarci Sai cosa c'è? Questo è il daily Lo vado a mettere Nella lista Il 1000 Perché Ha fatto un secondo tocco Adesso magari Ci va a fare Il terzo tocco daily Magari non domani Ma insomma Va a ritestare La 10 Poi torna su Diventa interessante Vediamo Vediamo Ci metto Un secondo livello Qua Ok E lo metto Fit 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 Lo metto qua E vediamo Volendo Dai lo mettiamo verde Che volendo C'è una conformazione Nel senso che Nel daily Comunque abbiamo Una finta Oggi rosso Anche magari domani Che va a testare La 10 E poi dopo Questo livello Fintato Diventa interessante Vediamo E Poi Ape Ma Ape Non l'abbiamo già visto Sì Ape L'abbiamo già visto E qua Ape Il daily Abbiamo un terzo tocco Ancora buono Ancora da Da validare Quindi questo ancora da Arrivare a livello Trigger Allora dai Gli ultimi Mina Oh Questo è un daily Secondo tocco Il mensile È sempre un secondo tocco Vediamo Time frame un'ora Perché questo sarebbe meglio Come terzo tocco Quindi che riposasse Domani E niente Time frame un'ora Mi sa che va a rompere Di nuovo i massimi Sì Come daily Sarebbe interessante Se facesse la finta Poi riposasse un attimo E dopo col terzo tocco Sicuramente sì Così ancora no E poi c'era bond Allora Daily Daily Allora bond Questo è il daily Bond ragazzi Non si può proprio vedere Cioè quando vedo tutte ste candee Cioè praticamente sapete già che domani Andrà a testare la 10 Quindi piuttosto comprate Aspettate Mettete l'allert Sulla 10 E se anche domani Va sulla 10 Cioè E se anche domani Sulla 10